I grandi amori, i ranieri, non si raccontano. Quando noi amiamo, amico mio, e voi lo sapete, noi siamo molto deboli e molto forti insieme. Non potete perdonare a costui come ho un presentimento strano, che da voi mi verrà il più vivo raggio di luce, perché io trovi il mio cammino nelle tenebre, coloro che hanno voluto ucciderci. Grazie a tutti.